Nome? Enrico. Giudonico. Giulio. Età? 24. 23. 23. Squadra in cui militi? Castellana Grotte. Cosa cercavi da questo campionato? Cercavo continuità, quella che ho espresso l'anno scorso a Latina, facendo un buon campionato e spero di portarlo anche quest'anno. Cercavo di giocare abbastanza, purtroppo ho avuto questo infortunio, adesso spero di riprendermi un po'. Delle conferme. Grazie a tutti.